ciao amici benvenuti su spicy life tv io sono jim e io sono kata e questa è paesi la oggi vi presenteremo una nuova sfida la blindfold for ciao in che cosa consiste questa challenge consiste nel fatto che sarai vendata non vedrai niente e tim boccherò ti faranno usare delle cose da mangiare devo assaggiare e si e tu dovrei indovinare cos'è se non in ogni tuo errore dovrai verti uno sciottino ma io sono spicy kata vuoi che non le indovino tutte vedremo accetto la sfida allora cominciamo e allora siamo pronti cominciamo prendiamoti e non schiacciare troppo sennò tutti i miei neuroni potrebbero rimanere danneggiati tutti e due tutti e due non vedo niente sicura sicurissima si clemente ricordati che nel prossimo video toccherà a me allora allora ricordati che ad ogni errore dovrai verti uno sciottino sì clemente aspetta vuoi usarlo prima ma io non c'ho la penda sul naso apri la bocca maschica bene e cerca di dire cos'è che cos'è è una cipollina sotto accetto bravo cazzo hai indovinato la consistenza che mordevo e si spaldava e mordevo e si rispaldava non capivo ma dopo è arrivata l'illuminazione 1 a 0 per me andiamo avanti con questo è nusa ti ho detto che ho il naso tappato come faccio? non sa di niente apri la bocca è buono? di verità la so la so dimmi marmellata fai frutti di bosco ahahah va bene va bene va bene alziamo il tiro allora va bene questo è ahahah qui vuoi? ahahah cosa è? che vuoi? ahahah nooo che cos'è? è aspro faccio lo sciottino? no che cacchio è? mi arrendo no! ti rompe lo sciottino che cazzo è? vuoi un altro po? no fa lo sciottino a me la marmellata ha visto qualcosa finito lo sciottino ti dico cos'è lo sento troppo glu 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 vai va bene che appesa sto bicchiere mmm questo è il limoncino vai 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 ma questa è acqua vera è acqua vera è acqua vera non è pinta dimmi cos'era la schifezza di prima concentrato di pomodoro che schifo ma sai questo wow che schifo e allora andiamo avanti col quarto ingrediente della sfida eeeh arriva il trenino l'aeroprenino e scemo arrivano tutti che cazzo mordicchia no non si mangia con la bocca piena con la bocca aperta come è come è come è come è un broccoletto è tutto semplice dove è sa di che vuoi fiore da crudo va bene dai allora ti voglio graziare ti voglio far assaggiare questa cosa dai lavato e meno prima di te voglio farti assaggiare questa cosa buonissima apri la bocca ho del verde credente me lo sento ahahahah allora andiamo con il quinto ed ultimo ingrediente il più buono apri la bocca apri la bocca non 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 ci grazie polvere che cazzo è? dai? cittino? dai è polvere cittino? non vuoi essere guardato che è male è molto facile è molto facile è molto facile mix di spezie mix di spezie orientali risposta sbagliata davide l'acqua per favore cos'è? che cacchio è? eh ormai hai perso devo farti lo cittino occhio un po' sbagliamela bella così guardi la stichezza che hai fatto oh mio dio oh mio dio era caffè dove l'hai trovato? noi non abbiamo caffè mamma mia ragazzi guardate che bel mix che ho fatto il roccolo ne ha quel tocco in più allora siamo a due errori oddio eh dai semplicemente ragazzi il prossimo video lo smerdo io prossima settimana vi faremo vedere i miei assaggi io gli indovinerò tutti perché sono un mago degli assaggi come era? dopo dopo il caffè e il limoncino è delizioso delizioso i caffè e il limoncino ci stanno bene oh mio dio oh mio dio ciao mi hai sporcato tutto il divano di caffè oh mio dio volevamo mandare un saluto speciale a tutti quelli che ci sono stati con noi nei momenti più bui ciao spigoli ciao spigoli ciao 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 poi per andare in bagno la notte li vecchi sempre quei cacchio di spigoli bene ragazzi se il video vi è piaciuto mettete un sacco di pollici in su iscrivetevi al nostro canale condividete e continuate a seguirci perché nel prossimo video ci sarà la blindfold food challenge la mia la sua vediamo se è più forte di me ma io ho i miei dubbi continuate a seguirci ciao 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 sai che mi vendicherò oh se mi vendicherò oh se mi vendicherò ciao